Smantellata una banda di rapinatori trasfertistiche dalla città di Catania, potendo contare sull'appoggio logistico ed operativo di conterrani insediati sia ad Ancona, effettuavano rapine seriali. Quattro le persone arrestate, tutti catanesi ritenuti responsabili delle rapine avvenute il 28 febbraio 2014 a danno della Banca Popolare di Ancona e il 23 maggio dello stesso anno presso la Banca delle Marche. Colpi che fruttarono all'organizzazione circa 280 mila euro di bottino, per cui si tagliesi anche le abitazioni di due fiancheggiatori che fornivano ospitalità ai rapinatori.